It's you and I Diritti LGBT, il ministro Fontana blocca Monica Cirina su Twitter di redazione e bloggo It Gioveda negazione 7 giugno 2018 Il ministro Lorenzo Fontana mi ha bloccata su Twitter Pensavo di aver fatto un bel gesto nel presentarmi e salutarlo il nuovo ministro della famiglia Lorenzo Fontana e la senatrice Monica Cirina sono agli antipodi Il primo ha contilde noto per le sue posizioni anti-gay e contro l'aborto, la seconda ha contilde riuscita nella storica impresa di portare le unioni civili in Italia e per continuare a battersi giorno dopo giorno anche per i diritti delle persone LGBT nel nostro paese Due posizioni totalmente opposte, con Monica Cirina che in questi ultimi giorni non ha perso occasione per rispondere alle dichiarazioni contro le famiglie Arcobaleno del ministro Fontana I due si sono anche incontrati l'altro giorno al Senato, quando il governo Conte ha chiesto e ottenuto la fiducia, ma qualche ora fa la senatrice si ha contilde accorta di essere stata bloccata su Twitter proprio da Fontana Un gesto piuttosto ridicolo e per nulla maturo da parte di Fontana o del suo staff, che oggi ha contilde diventato di dominio pubblico quando Monica Cirina ha condiviso un post su Facebook con tanto discre e sciò Quando la senatrice ha rincarato la dose in un'intervista concessa oggi alla Repubblica Monica Cirina aveva incontrato Fontana al Senato e aveva scambiato con lui poche parole Il ministro Fontana non ha ancora replicato, quindi non sappiamo se il blocco sia stato fatto in queste ultime ore o se, viste le sue posizioni ben note e il lungo percorso delle unioni civili in Italia, lo abbia fatto qualche anno fa Il ministro Fontana non ha ancora replicato, quindi non sappiamo se il blocco sia stato fatto in questo caso